La discussione che si ha fatto per me è in conclusenza. Nessuno ha un consigliere, consigliere Salvatore. Salve a tutti. La discussione che si ha fatto per me è in conclusenza. E quindi mi rivolgo un po' all'opposizione e all'epoca governata. La Commissione che si ha fatto per me è che bisogna entrare in un contenimento di spesa che non deve superare il corale per cento del 22 giugno 2011, riferimento al 2016, quando governava la Commissione. Bisogna fare i criteri di un rispetto di pazzo di stabilità di gestione che quindi governava l'opposizione e che dovremmo penetrare i limiti del 15% della spesa della sceltazione della spesa. La Commissione che si ha fatto per me è in conclusenza. La Commissione che si ha fatto per me è in conclusenza. La Commissione che si ha fatto per me è in conclusenza. La Commissione che si ha fatto per me è in conclusenza. La Commissione che si ha fatto per me è in conclusenza. La Commissione che si ha fatto per me è in conclusenza. di dirigenti come parte di città di costruzione noi diciamo di invitarci su un percorso lecito della generazione della destra e penso che tutti quanti siamo coi e sostenenti